Mr. Labdew, Serbia ha messo in difficoltà nella gara d'esordio di questo torneo preolimpico da parte dell'Australia, che gara è stata? Questo match è stato molto difficile, hai fatto molte problemi con l'altra squadra, come è stato questo match? Firstly, it was a great match, it was really difficult conditions, it's very hard, the players were, I think, close to their limit, but the point I said in the press conference before the tournament is that we came here to qualify for the Olympics, not to make nice show, not to do anything else. So, I don't really care if we trouble Serbia or not, but we played a good match, we had a chance to take one point from this, but we missed one unlucky player somewhere and that was the difference. In verità non ci interessava molto preoccuparci dell'altra squadra, ma di fare il meglio che potevamo ed effettivamente a un certo punto ci siamo riusciti perché stavamo lì lì per vincere. Ad ogni modo è stata un'ottima partita. Cosa è mancato oggi all'Australia secondo te e come affronterete la gara di domani con l'Italia? Cosa credete che ci sarà un'ottima partita di domani con l'Italia? Cosa farà fare in un'altra forma? Per oggi, magari la cosa che ci scelgiamo è che non crediamo che siamo buoni per vincere contro una squadra come Serbia. E in la seconda squadra, non è che abbiamo fatto un errore, ma non abbiamo attaccato la squadra. E quando ci spavamo questi matchi, dobbiamo attaccarlo per tutto il match, come in la prima squadra, come in la quarta squadra. Quindi, abbiamo bisogno di fare questo per un altro squadra, questo è quello di oggi. Per domani, la qualificazione, nessuno ha il ticket. L'Italia deve venire questo match oggi, prima. E poi, se vogliono il ticket, dovrebbero vincere noi. E vedono cosa dovrebbero fare domani per vincere noi. Allora, per quanto riguarda la competizione di oggi, all'inizio ci è mancato un po' il fatto di crederci, di crederci veramente di potercela fare. Eppure ci sono stati due set in cui veramente abbiamo dato il massimo. E se ci fosse stato un altro set, probabilmente avremmo vinto. Per domani non so come andrà, perché noi il biglietto non l'abbiamo fatto. Vediamo un attimo di affrontare domani la competizione. Intanto deve vincere l'Italia stasera, poi si pensa.